Allora facciamo anche tutti i pezzi Baglioli tolgo dopo perché Però oscio perché Comunque i blocchi devono essere sempre connessi Non ci devono essere blocchi volanti Se no poi vedi che succede Ok Dunque altri blocchi Benissimo Beh chiaramente deve fare però una scala Vandaggiù non è che chiudi completamente No la facevo qua Ok Faccio una scalettina come quella che c'è dentro Ok C'ho del vetro ma abbiamo bisogno di parecchio vetro Aspetta c'ho la pala ovviamente faccio prima E non posso di nuovo saltare Ma perché? Perché ho la parra della fame a 2 A me proprio non Boh si è bloccata lì e va così Ah ok quindi Hai del cibo? Con me no te lo vado a fare Grazie Prego prego Non so sta mangiando Solo sta mangiando tutto lei non è rimasto niente Pagina Quattro bagnotte Se si è mangiata Io niente Cioè A me Ma meno male Pensa un po' C'è Ce l'ho qui a carico Lei Mamma quando mangiate Dove sono? In un gioco Sei dove sono? Mi chiede No io le fagnote Dunque Ecco a me l'unica cosa che scende è la sede Ok benissimo Già allora vado a cucinare un po' di vetro ovviamente Vetro Eh tu hai chiuso tutto ma ovviamente bisogna lasciare dello spazio per Ah l'avevo lasciato un buchi mi sembrava di averlo lasciato Sì sì proprio buchi a non finire qua vedo sai È meglio da sotto perché da sotto si vede meglio Ecco da sotto direi che mettiamo tipo un po' di vetro qua Però magari più Più Di più Sì mettine tanto perché se non si vede Ah già Oddio però mettilo simmetrico Perché come cacchio Ah ok No vabbè ma tanto l'ho finito devo andarlo a prendere Sì ma qua devi mettere di più però scaletta Ah va bene Sì facendo fatica sì Va bene Crafterò ancora Ecco le due Brava 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 Ecco bravissima ci vuole proprio una crafting table qua pure Ce la portiamo ovviamente con noi ci sta Ok Fatta No ma ancora qui non è simmetrico comunque Eh non so hai detto che è finito il legno No io sto a falla Sono proprio sceso sotto Cosa? No niente sto a mettere più vetro ovviamente Aspetta l'apero della fame è scesa di una tacca Wow E bene io sono di nuovo a due quindi non posso saltare No 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 sto scendendo sto scendendo Sta scendendo Ok c'è quindi del vetro che illuminerà la parte di sotto Ovviamente qui sopra anche dobbiamo un pochettino vedere come fare La mettiamo qua Io direi anche di cominciare un pochettino A dargli una forma Così Magari così andrà bene Che ne dici? E bella Mi pare che manca un blocco Ok E la punta della nave Ok Oh già così in altezza va più che bene Bene io direi che ci starebbe pure Vediamo un po' Beh chiaramente dobbiamo proteggerci anche sopra se piove per dire no Quindi dovremmo costruire una specie di cabina ma come? Sempre chiaramente con la legna l'ideale Probabilmente Ma se vuoi lasciare aperto No aperto che fanno Non puoi navigare da sotto I bordi I bordi Li puoi lasciare aperti Oh come vuoi tu Che se no facciamo il tetto che sta sta tenuto su da dei paletti di staccionata Staccionata Fai tu Fai tu perché Non ci capisco Il problema è che sono momentaneamente bloccata qui Perché? Che ho la barra della fame a mezzo Oh madonna mia Quanto magna questa Questa tra poco mi divento obesa ragazzi È incredibile Come cosa devo fare? Vabbè sfamarla ci vuole un autotreno Di cibo Ma c'è più grande Se hai mangiato tutto lei Ok va Vabbè dai piazzi in blocco per tanto Non puoi neanche saltare Vabbè allora ti vado a cercare qualcosa Non posso neanche più salire Ah ok sto prendendo danno No va bene ma Come sto prendendo danno Eh va andata a zero Aspetta aspetta ti porto da magna Manneggia quanto magna questa Izzica Questa tra poco mi divento obesa Veramente allora Vediamo un po' se riesco Arrivo 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 non mi crepa No come faccio a salire Ok dai Dove sei? Sei sotto addirittura Non riesco neanche a salire la sala Vai magna 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 Lì per terra Due E questo ho trovato Guarda questa se lamenta pure Amica Mamma magna Ho trovato un bel po' Forca voglia In scala E' veramente E' orribile No allora devo andare Allora vedi La mia idea era tipo fare così No la mia idea è che mo Io ti cerco cibo E tu costruisci Perché E qua tipo Se trovo un maiale è meglio Perché sti maiali Ti danno sette Pagni Sette di carne Quindi almeno questa Teoricamente per un gameplay Mi sta sazia spero Questa tra poco Tra poco ragazzi Tra poco se mangia pure me C'ho paura No non vale La tua barra della fame Non scende la mia Scende oltremodo No 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 Di scendere sto scendendo Quindi tra poco Crepo pure io Aspetta ma qua ci sono i funghi Ma i funghi in casa ci stanno Ma io mi faccio le zuppe Ok fall fall Io intanto preferisco la carne Mi piace mangiare carne Io ho capito però Yes Ma tu stanno i maiali Quando uno non ha fame Ne trova decine Quando c'hai fame Non ne trovi neanche uno Ovvio Assurdo No ma va bene Ok Allora Così e poi Cos'ha Ma io sto cercando Dai vediamo se trovo Il tetto della barca Come lo vuoi fare Non lo so Come ti piace a te Io ti sto cercando A mangiare Guarda Non ti preoccupare Il bello è che non trovo niente Tra poco muoio pure io De fame Vediamo se Ah io ho fatto le zuppe pari Ok Se non trovo Ho trovato dei mini polli Trovavo Eh ma noi I polli piccoli Ti danno niente No 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 Carne 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 Non sono tanto mini Sono quelli buona Abbastanza Ho riscazziato Cornuto Affittuso Vieni qua Fatti via Chi è lui Maiali Maiale 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 Suino Vegetale Ma Bado Taddi Non trovo Neanche un maiale Ne ho trovati 50 Lo giuro Minimo Su 50 Minimo Bello E quanto Cagano Il tetto Della barca Oh no Fa pure notte Però Proprio ora Che devo Cerca da mangiare E Ci Non mannaggia Allora Ti pare che ne piglio Uno Ma neanche Questi scatti Senti Vai a dormire Perché qua Tra poco Io sono fregato Vai subito a dormire Che io esco E rientro Ok Io esco Dimmi quanto è giorno Così evito che mi faccio mangiare vivo Ci manca pure questa Cosa? Ah ecco Stavo a dire Sono rientrato C'è la barra Della fame piena Sono di impuessi Ok Minilag Minilag Quando entro Mi vai in lag Fatti piglia Almeno i polli Se fanno pigliare Guarda Meglio loro Che niente Vieni qua Pezzo di pollo Ok Mi mangio Un pezzetto Di pollo Perché sto crepando Ok Sto tornando A casa Con un po' di cibo Vedi intanto il tuo di dietro Da lontano Allora Questo Io dico che cucino tutto Sto cibo Tanto Come va 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 a marcire Lo stesso Guarda Elena Cosa Intanto ha costruito Hai capito Ah Vedio Oh Ecco Ma lei Ecco cosa studia Progetta per le navi Vediamo se riesco a uscire Ok Ho messo Ho messo il pollo A cucinare Mancano le patate E poi veramente Ci stava Ok Dunque Vado a riseminare Un po' di semi Ecco Ci sta anche questo Oh Direi che Io vado ancora A seminare Un po' di cose nuove Qua perché ne ho A disposizione Ecco Il problema è che Io ho finito la legna Adesso ne vado a prendere Adesso ne vado a prendere altri Abbiamo quanti blocchi ci vuole Per fare sto coso Scusa Un sacco Ok Vado a pia pure io Un po' di legna No Ok Ma comunque il problema è che sta nave Noi non possiamo spostarla Finché non abbiamo le sedie E non possiamo farle Perché non abbiamo La lana Non abbiamo la lana Oh al massimo nel prossimo episodio Andiamo in verna Esatto Comunque mi vado a fare qualcosa da mangiare Ah ok Non lo so Comunque piglio sto pollo Mangiatelo Abbiamo le uova C'ho le uova della gallina Che poi vedremo se farne qualcosa Proviamo a spawnarle lì Però No ma ancora c'è il recito Ah io l'ho posato Dunque vado un attimo a piazzare Sti alberi Che stiamo disboscando parecchio Quindi direi che Qualche alberello ci sta Vado un po' a piazzare l'alberi Così che Se serve della legna Sappiamo dove prenderla Ne piazzo un po' qua E l'anio Così tanti veramente Qualcuno prima o poi prenderà Ok Perfetto Andiamo un po' a vedere Prima di concludere il video Vediamo un po' Elena Intanto cosa ha costruito Chiaramente dovresti mettere Un po' di vetro nel tetto Perché Eh lo so Il problema del tetto È che Essendo fatto con le slab Il vetro è un po' troppo grande Però va bene Sì questo è vero Beh se no Puoi costruire i pannelli di vetro Non ci stanno quelli Dovrebbe essere sottili Non lo so Esistono Sì certo Però ci vuole parecchio vetro Eh sì lo so Ma non li puoi mettere sopra Vabbè fai una bella cosa Poi da sola In single player Farai la prova E vedi se si riesce Dai Hai ragione Io direi che invece Magari comunque Adesso ci fermiamo Così dai Siamo comunque A buon punto Questa è la barca Ragazzi qualcuno dirà Ma veramente Sta cosa si smuove Beh sì questa cosa qua Si smuoverà Navigherà ragazzi Navigherà Ce la faremo Nel prossimo gameplay Cercheremo di Definirla In modo che Possiamo cominciare Magari ad andare un po' in giro Magari il produttore Sarà finalmente contento E non ci massacra Poi ci vorrà un apporto Speriamo Va bene Allora ragazzi Noi speriamo che il gameplay Vi sia piaciuto Come sempre mi raccomando Commentate Iscrivetevi Se non siete già iscritti Lasciate un pollicione in su Che per chi non sa cos'è Sarebbe un mi piace Se volete Se il video vi è piaciuto La serie vi stia piacendo Ovviamente ragazzi Vi lascio il link In descrizione Del canale di Elena Vi ricordo che lei Fa il video In webcam nuda Quindi mi raccomando Non mancate Sì è vero Poi con l'arrivare delle state Difatti no Quante volte l'ho detto Ragazzi C'ho il naso Talmente lungo Oramai Cioè No però dai oggi Non ho la felpa Quanto meno Urca Allora Allora ne vale la pena Vabbè dai A parte gli scherzi Quindi ragazzi Ci becchiamo presto In un prossimo video Stateci bene ragazzi Alla prossima Ciao